Diamo il benvenuto a Mr. Palomba, benvenuto. Salve. Intanto i meriti alla sua squadra, una prestazione suntuosa, un 4-1 che non ha lasciato scampo agli avversari. Sì, i ragazzi si sono comportati male, hanno messo il giusto agonismo in questa partita, ma già perché dall'inizio eravamo convinti che potevamo portare questi tre punti a casa e sono contento. Quindi l'idea iniziale era quella di aggredire tanto l'avversario per poi portarlo anche a degli errori che poi effettivamente ci sono stati in partita. Quella è stata l'intenzione dall'inizio e infatti siamo riusciti a raggiungere questo obiettivo. Alla fine il match è stato sbloccato subito, merito a Loconte che ha fatto un gol meraviglioso, direi di lasciare due parole anche a lui. Sì, certo, un bel gol da fuoriclasse per dire, perché si vede anche in televisione in serie a questi gol. No, complimenti a Loconte, sì. Sono contento perché se lo merita. È un bravo giocatore e sono contento. Ringraziamo mister Palombi, il meglio è lui alla Mundi al giorno della prossima partita. Grazie mister.